Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, è in corso lo sciopero di 8 ore sulla rete di AATAC, la protesta dopo il tragico incidente avvenuto ieri nel deposito di Tor Vergata è in programma sino alle 16.30, questa è la situazione, sono chiuse le metropolitane A, B, B1 e C e chiusa anche la ferrovia Termini Centocelle, per quel che riguarda bus, filobus e tram sono possibili temporanee sospensioni di linee o riduzioni di corse, lo sciopero lo ricordiamo interessa la rete di AATAC, servizio normale quindi per i collegamenti bus di Roma TPL e Autoservizi Troiani, l'elenco completo di queste linee è su romamobilita.it